Buongiorno amici, buongiorno, volevo solamente dare un consiglio a tanti che fanno i firmati, fate come me, io non voglio impressionare nessuno con queste buste sotto all'occhio, io non voglio impressionare nessuno e ci sanno certe, porco giuda, certe persone che se fanno i video, tipo qualche tifoso da Fiorentina l'altro giorno, e porco giuda mi ha messo l'ansia, io non voglio dire che tu non hai i documenti, tu hai il pedigree, porca miseria, fa come meno mettere uno strascio d'occhiali anche quelli disegnati, quelli verniciati, un euro d'occhiali e cazzo fa cosa, c'è sta gente impressionabile come me, che non regge la botta tante volte, ragazzi innanzitutto mettete un bel lì che, oddio c'ho il fiatone, perché c'ho il fiatone, perché mi è capitato uno ma, allora quando mi erbatti il cuore io c'ho il fiatone amici miei, metti il lì che, che tanto non è, vedi, oggi come oggi ci stanno i telefoni che, basta che sfiori dici capito, metti sto lì che, ti ho detto che c'è un 200, cioè io, io pensavo, non ho mai chiesto, eh, non ho mai chiesto di iscriverti al canale perché, ho iniziato così per gioco perché io non sono esperto di cazzo, non te voglio venne in cazzo, perciò, però adesso ho visto che 200 di sgraziati sono iscritti, perciò, se tu metti il lì che, e magari attivi il citofono, hai una campanella, anche se sei tifoso dell'Inter, io ho perso un amico porco, Giuda, ah non è che è morto, eh, ho perso perché, eravamo da Pischelletti, lui era interista, io, Juventino, però dopo, dopo 50 anni, che lui era interista, mi ero scordato, ho fatto dei firmati, anti-interisti, perché io non ho rechi interisti, però, sono persone come noi, eh, capito, non voglio, io non faccio dissi, io li voglio bene, capito, c'ho pure l'ex, è cognato mio, che era interista, portarci i tuoi Oscar, capito, perciò, io non vi voglio dire, mettete un lì che, ma è giusto per far sedurizzare, no, però, non te vengo un cazzo, tra i tuoi, non è che tu ti svegni, svegni il contratto, poi, se non ti sei iscritto, almeno devi scrivere, per il semplice fatto, che non ti impressiona che buste dell'occhio, solo per quello, e poi, io faccio i video per i, ma che me frega, anzi, io dico di tutto, spazio su tutto, capito, spazio su, sul calcio, sulle cazzate, che, sulle cazzate tranquilli, sono il campione del mondo delle cazzate, perciò, se ti sta bene, se mi vuoi fare con te, se ti vuoi fare due risate, un giorno, che stai sotto al treno, dicevo, fammi sentire un po' scemo, che mi dira un po' super morale, ah, c'è sta gente, che stava ancora peggio da prima, eh, avvisato, ma dai, ti faccio fare due risate, non faccio, ma, e metti in sto lì, che, e iscriviti, e che cazzo, attiva il scitofono, e poi, alla prossima volta, dai, te senti, te senti un'altra, oggi, sta un po' così, perché, è da bene, però, può essere domani, se favo due risate, oggi, che te devi fare, ma che te devi fare, ma che te devi fare, quindi, già a pensare a mio cognato, che è interista, già, perciò a cambiare l'umore, porco, c'è, oh, anche se sei da Roma, eh, perché tu devi sapere che io ho tre figli aziali, tre figli aziali, c'ho, capito? Vabbè, eh, quelli sono problemi, ragazzi, link, iscrivetevi al canale, è un abbraccione, la campanella, il scitofono, e senti la prossima cazzata, ok?